eccomi 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 buonasera amici amiche rossoneri ragazzuoli e ragazzuole belli buona serata di questo martedì 13 febbraio 2024 ore 18 58 ore 6 58 della sera buon San Valentino per tutti gli innamorati se mi vedi di mercoledì 14 febbraio 2024 perché sorrido ragazzi perché c'è un motivo comunque meno male che stanno ritornando le competizioni europee Champions League Europa League Conference noi siamo impegnati lo ripeto giovedì sera alle ore 21 giovedì sera alle ore 21 contro il Ren il Ren oggi ha profuso parole di miele nei confronti del Milan club di statura mondiale che ha fatto la storia del calcio Van Basten simbolo vabbè grazie a quelli del Ren grazie veramente chi toglierebbero quelli del Ren dal Milan Giroud e Leao va bene proseguiamo ragazzi razzo prima le notizie che ruota dentro il nostro Milan allora io ve lo dico per onestà di cronaca perché le cose vere e comunque bisogna essere sempre anche onesti nella raccontare le cose vere e reali della cronaca Massimiliano Allegri lo aveva sempre detto il Milan tornerà il Milan tornerà ragazzi lo aveva sempre detto Massimiliano Allegri e aveva sempre detto che loro non possono concorrere per lo scudetto oggi Allegri ha dichiarato dopo la sconfitta di ieri sera contro l'Udinese che l'Inter è troppo forte ricorda la Juventus di quando con lui e poi prima di lui hanno vinto per cinque anni di seguito e perché erano troppo forti le Juventus di quegli anni ma io aggiungo però che loro lottavano e giocavano in un deserto dei tartari senza concorrenza Allegri per cui ha detto che l'Inter è troppo forte e che il Milan ha dei valori di giocatori superiore a quelli della Juventus ecco perché io vi ho detto che noi possiamo arrivare al finale di stagione al secondo posto Pioli e staff permettendo il chiaro concetto punto a capo oggi l'ha dichiarato Allegri per cui bisogna dare un reatto e poi numero due c'è una notizia clamorosa ma come godo in questa notizia alla faccia sua sindaco Beppe Sala di Milano oggi Sala ha dichiarato ma Inter e Milano mi avevano promesso di rimanere fino a giugno 2030 cosa faccio io adesso con San Siro cosa faccio proprio queste parole ha dichiarato cosa faccio io adesso con San Siro vabbè dovrò trovare una soluzione oppure venderlo Milan l'avevo promesso lei sindaco Sala non ha mai visto i miei video già da più di un anno che lo dico da un anno e mezzo chi mi vede lo sa chi è il mio follower storico lo sa io sono un sentenziatore non per presunzione ma molti di voi me lo hanno anche scritto sotto il video che sono un sentenziatore perché così è lo sanno anche i miei familiari e i miei amici quando parlo succede sempre questa è la verità avevo detto più di un anno fa lei sindaco Sala con un pugno di mosca rimarrà in mano e così è successo ha visto sindaco Sala non guardare i miei video peggio per lei a te invece che guardi i miei video datti una svegliata vi abbraccio a tutti siete uno spettacolo ragazzone intanto sbaglio a mettere la cam proseguiamo il protagonista di questo video Raffa Leao perché oggi si viene a sopprire una notizia dalla Spagna adesso facciamo un po' la summa della situazione Leao allora a ritroso devo ricordarvi che il nostro Raffa Leao percepisce dal Milan 7 milioni di euro netti lo ripeto 7 milioni di euro netti sono 6 più bonus 7 7 milioni di euro netti non prende una mazza prende una cifra colossale altro che farsi l'oraggio d'oro con i diamanti e andare da Fabio Fazio lì a che tempo che fa cioè cerchiamo di capirci ognuno ha quello che si merita ci mancherebbe a me cosa mi frega io non sono mai stato un invidioso sociale se tu sei un invidioso sociale sei uno sfigato se uno c'ha la Ferrari vuol dire che se l'ha meritata se c'ha la Carrea vuol dire se l'ha meritata se ha la 500 se l'ha meritata se c'ha il Rolex se l'ha meritata tutt'ora chi se ne frega ognuno deve essere felice con me deve essere felice di quello che ha punto e a capo e poi chi se lo merita perché ha lavorato tanto Raffa Leao è un grande però allora parliamoci chiaro 7 milioni di euro netti di stipendio dal 23 settembre in campionato stagione 2023-2024 non segna più profonde assist e gioca in una maniera diversa Pioli gli ha detto insomma di coinvolgere di più la squadra e lui stesso più nel mezzo cioè nel centro del campo nel centro dell'attacco per accentrarsi di più coinvolgere di più gli attaccanti e tutto il resto però a discapito di quello che Leao non fa più praticamente i gol oggi è stato preso a riferimento che Leao dai giornalisti dovrebbe somigliare di più a Vinicius del Real Madrid e Fabio Capello ha detto ad esempio tu dovresti fare quello che io ho fatto con Ibraimovic cioè allenarti tutti i santi giorni a tirare verso la porta a tirare cannellate verso la porta per centrare la porta perché lui deve avere uno schema mentale superiore, Leao, Raffaele, Leao di come quando tira cioè centrare e fare il gol della porta cioè la porta deve essere già nella sua testa dice Fabio Capello lui ha martellato Fabio Capello, Zlatan Ibraimovic ai tempi della Juventus e poi Zlatan è diventato quello che è diventato perché la verità l'ha detto anche Zlatan Fabio Capello è stato l'uomo della svolta per lui questa è la verità chiaro qual è il concetto? per cui fatta tutta questa prefazione oggi si viene a sapere questa notizia della Spagna che sembra che il Barcellona è interessato a Leao allora, mando le ciance, l'avete forse letto l'articolo il Barcellona è stato faciliato nei conti economici dal Covid e tutto il resto, ma tutto quello che ne è venuto fuori il discorso è però questo con che soldi il Barcellona si compra Leao? con che soldi? niente, oggi si parla praticamente che il Barcellona può vendere un pezzo di palinsesto di sua proprietà che è praticamente adibito alla gestione media cioè video e tutto il resto del Barcellona per la cifra di 200 milioni di euro la clausola di rescissoria e comunque la clausola di vendita scusate, di Leao è di 175 milioni di euro quando Raffaeleau l'estate scorsa ha firmato il contratto di 7 milioni di euro netti con noi con la clausola del 175 quando il Milan ha pagato un conguaglio diciamo un un conguaglio sostanzioso di milioni di euro al Lille per chiudere la controversia tra virgolette tra Leao e Lille per la questione spot in Lisbona però il Milan ha fatto firmare anche una maleva al Lille che praticamente in questo modo pagando il Milan dei milioni di euro al Lille per chiudere la questione una volta per tutte il Lille non si sarebbe più rivalso mai più sul Milan per la questione lo ripeto ancora rescissione anticipata di Raffaeleau dallo Sporting Lisbona che poi lo Sporting ha portato in tribunale Raffaeleau e il Lille e ha avuto ragione lo Sporting Lisbona è notizia degli scorsi giorni che lo Sporting Lisbona fa ricorso contro il Lille ma il Lille dal Milan dal Lille non può più pretendere niente perché il Milan ha pagato un indennizzo a Lille è stata scorsa per cui a noi il Lille ci è costato ci è costato praticamente ci è costato il rimborso diciamo uno può dire morale sì può essere anche morale anche oggettivo uno se vuole metterla così a Lille in più abbiamo fatto firmare il contratto megagalattico a Lille insomma vedete un po' voi ragazzi vedete un po' voi cioè il Barcellona ha questa carta questo asso nella manica vendere questo pezzo di pali di sesto per 200 milioni di euro se il Milan invece di 175 chiede 150 come si dice oggi sì in effetti la cosa è logica può andare bene però dicono anche i giornalisti oggi la solita storia dei giornali che il Paris Saint Germain si è raffreddato sulla pista Leao ragazzi io vi dico la verità secondo me c'è l'ipotesi buona ipotesi che forse adesso non lo so con certezza questo che Raffa Leao quest'estate venga venduto perché se ti offrono comunque in ogni caso non 175 che è la clausola ma 150 cosa fai non lo vendi saresti uno scemo del villaggio non vendere Leao il cartellino uno dice i campioni devono rimanere sì è vero però è anche vero che noi in attacco abbiamo bisogno di giocatori che realizzino che insacchino la palla nella porta avversaria Leao è vero però che ti spacca le partite col suo modo di giocare mette in confusione difese avversarie quando devi si accendere la lampadina lui ti produce degli assist il problema è che però gli altri suoi compagni dovrebbero prendere le palle di Leao questo è il vero problema perché è anche vero che Okafor aveva sbagliato a prenderla insomma c'è tutto un meccanismo che si deve andare anche a amalgamare bene per cui Leao è l'uomo da tenere da vendere per 150 se questi offrono 150 a Barcellona presa Germain o chi per esso perché poi ci potrebbe essere una sorpresa questa è la vera domanda ragazzi questa è la vera domanda per cui c'è una nuova pretendente c'è un nuovo un nuovo pretendente per Leao vedremo chi sarà e oppure magari è facile anche che Leao rimanga a Milan io vi mando un abbraccio forza a Milan sempre comunque ovunque io sì la penso come voi campione devo rimanere però ragazzi oggi con certe cifre cioè ti rifai un pezzo importante di squadra soprattutto se sai fare il mercato proviamoci chiaro ragazzi l'altro giorno Taremi non ha fatto visite mediche ma l'Inter comunque ha già ingaggiato praticamente Taremi e Zelischi del Napoli e comunque a parametro zero e questi gli danno pure soldone di stipendio perché risparmiano il cartellino e danno soldone di stipendio cioè al mio modo di vedere comunque le cose si possono fare il Milan vuole giocatori di proprietà che possano avere un valore futuro per creare un valore appunto patrimoniale del club questo io sono più d'accordo con la politica del Milan che con quella dell'Inter perché tu quella che fa l'Inter è una politica del vincere subito ma non patrimonializzi una mazza questo va detto non è per offendervi però è così vediamo vediamo come va a finire ragazzi io vi mando un abbraccio ci vediamo domani ciao 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 ciao